Ascolta questi suoni mentre stai con gli occhi chiusi e ti rilassi, sempre di più e respiri e i suoni che sentirai ti permetteranno di entrare in uno stato di coscienza particolare e in questo stato di coscienza potrai mandare un messaggio mentale per condizionare la mente della persona che ti interessa per entrare direttamente dentro la sua mente. Al termine di questi suoni che sentirai potrai tranquillamente riaprire gli occhi e dimentichare il tutto, vedrai che avrai riscontro. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.